Primo video fatto con la chitarra nuova che si chiama Laila per il momento e la canzone è per ringraziamento di un premio vinto per il romanzo Ancora un attimo, per favore, notizia ricevuta un minuto fa e quindi chitarra comprata oggi, tutto torna. Ancora un attimo, per favore, notizia ricevuta un minuto Non lo soggianto, per favore, notizia ricevuta un minuto e non soggai che mi fate e non soggai, non soggai raiare, non soggai che se ho fatto Oh, Lord, don't give me, show yourself to me. A time you've been clarising, you've been running out on me. A time you've been talking, you've been saying what you really mean. And, Lord, don't leave me waiting. Oh, Lord, don't give me. Oh, Lord, don't leave me guessing. Oh, Lord, don't give me, show yourself, show yourself. Well, Lord, don't leave me waiting. Oh, Lord, don't give me. Oh, Lord, don't give me. Oh, Lord, don't give me. Show yourself to me. Beh, suonicchia sta chitarrina. A lungo anche.